Quattro ore di sciopero alla Corber di Mugnano e primo incontro tra sindacati e azienda dopo l'annuncio shock degli esuberi che sarebbero un'ottantina, ma adesso si parla di 90 unità. Un incontro interlocutorio e non poteva essere altrimenti, con un nuovo appuntamento già fissato per venerdì. In mattinata c'è stato il presidio davanti allo stabilimento in cui lavorano 460 dipendenti. Le RSU aziendali si sono mostrate scarsamente convinte delle motivazioni dell'azienda. Il settore delle macchine per cartiera non è in crisi, hanno detto. L'azienda deve spiegare quindi perché alla Experini non ci sono sufficienti ordinativi. L'azienda ci dovrà far capire come mai non riusciamo più ad acquisire ordinativi, perché ordinativi ci sono in giro, ma in questo momento sono ancora in fase di trattativa, ma dobbiamo capire come mai non riusciamo ad acquisirli. Nel corso del successivo incontro l'azienda ha confermato la volontà di rimanere a Lucca, ma ha confermato pure che gli esuberi ci sono. I sindacati hanno proposto l'utilizzo di strumenti, quali cassa integrazione e contratti di solidarietà, ma anche scivoli di accompagnamento alla pensione. Se ne riparlerà venerdì, ma il segretario regionale della FIOMCGL, Massimo Braccini, non ha nascosto che la situazione appare molto difficile e la trattativa si prospetta lunga.